Buonasera a tutti, invito tutti ad accomodarsi. Tra poco diamo inizio alla serata. Benvenuti a Montecchio Maggiore, Villa Cordellina. Una splendida cornice, vi ringrazio per la presenza numerosissima. Vi ringrazio veramente di essere presenti e di condividere con noi questa serata all'insegna della solidarietà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.